Inizio io? Vai. Inizio il campione. Adesso è tempo di sfida per i nostri due rivali. Parte Cyril che è anche sulla GoPro e allora Cyril in bocca al lupo per cercare di colpire più traverse possibile. Inizio. È subito 1 a 0, è subito prima esultanza. Chiaramente ha il piede caldissimo. E tu hai fatto sfida con me? Mi stai scherzando? Tranquill, fate. Guarda, dai vai a prendere. Da poco. Prendi le due. Da poco. Ma si inizia subito. Uno solo noi perché la gente può pensare che abbiamo già fatto cinque di tentativa, il primo primo. Assolutamente. ho già vinto eh? Perché lì non la toccherai la palazzo. Vai a te, a te. Cambia se vuoi. Secondo tentativo. Tommerto. Ho detto che ho già vinto. Ho già vinto. No, no, no. No, no, no. No, nooo. Che sfigo. Vado, vado. Io l'ho toccato credo eh. Tomà mi spiace ma. Ho sentito ffff. No, 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 no. No, 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 no. Non serve questo. Eh, il problema. Ho perso la cosa perché ho già vinto. È alto, frate. Ancora alto. Prego. Allora siamo sempre un a zero per Siril. Vediamo, vediamo se Tomà mi ci ha rispondo. Eh, mi hanno che mi alleno con lui. Non ho ancora toccato la attraversa una volta. Sono connazionali ma si stuzzicano per bene. Questo ci diverte sicuramente. Dai, così mi metto un po' di pressione. Parte Tomà. Dai Tomà eh. Eh, oh, è forte oh. Niente da fare. Vediamo se la chiude Siril. No. Eh sì. No. Uh, ancora vicino. Non ci siamo. Troppo forza. Troppo forza. Momento decisivo. Faccio io. Se sbaglia è già finita. Però può già chiuderla. Miau. Ah, vabbè, almeno per la gloria Tomà. Go de la bandiera. Eh, quasi. Quasi. Sei scarso, frate. Chissà se ci saranno i vinciti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.